Una legge debole non concordata con le parti sociali che rallenta l'utilizzo delle risorse non affronta il tema dello snellimento della burocrazia. Questa è in sintesi la valutazione che la segreteria del Partito Democratico d'Abruzzo assieme ai consiglieri regionali ha fatto della legge cura Abruzzo varata dal Consiglio regionale. Questa mattina in una videoconferenza il PD ha esposto le sue ragioni e anche le sue proposte. Noi siamo una regione in cui il Presidente, la maggioranza, ha deciso di non interlocuire con le minoranze a differenza di quello che fanno altre regioni, penso a Lazio, penso all'Emilia Romagna che incontrano i capigruppo di opposizione almeno due volte a settimana, almeno due volte a settimana e a differenza di quello che le stesse minoranze chiedono e persino ottengono a livello nazionale allo stesso modo non c'è un'interlocuzione con le parti sociali, non c'è un'interlocuzione seria, costante con gli amministratori voi direte, beh per essere più rapidi perché discutere fa perdere tempo, no, vi abbiamo dimostrato con l'illustrazione di molte problematiche che in Abruzzo siamo stati e siamo più lenti e anche distratti adesso si capisce come in tempi di emergenza avere un Presidente straniero può essere un serio problema e lo stiamo purtroppo pagando. Mancanza di governance nella sanità, lo ha detto Silvio, non lo ripeto lentezza nelle decisioni, fanno in momenti di pace è un problema, in momenti difficili di guerra come questi diventano un dramma grazie a tutti